Ciao a tutti da Vittorio, me l'avete chiesto quindi parliamo di Vavro che sembra essere uno dei possibili acquisti della Lazio di questo calciomercato ma prima se senti foto della Lazio questo è il canale giusto per te perché ogni giorno caricherò almeno un nuovo video sulla prima squadra della capitale per cui clicca quel bottone iscriviti e la campanella in modo tale che riceverai notifica ogni volta che caricherò un nuovo video allora parliamo di Vavro, io sono preoccupatissimo se questo fosse veramente il reale obiettivo della Lazio mi auguro assolutamente di no, perché sono preoccupato? non conosco di specifico il giocatore però il fatto che a 23 anni viene da Slovacchia e sia giocando nel campionato danese è abbastanza preoccupante, a 23 anni se sei forte sei già in qualche campionato importante e soprattutto non sei nel campionato danese che detto onestamente è uno dei più scarsi in Europa insomma a massimo sei in Belgio o una cosa del genere Vavro sta giocando nel Copenhagen, la squadra di Olsen, ve lo ricordate il portiere da Roma? ecco, non è assolutamente ben augurante il fatto 23 anni, ancora nel Copenhagen, valutazione intorno ai 7 milioni di euro vuol dire che non sei un fenomeno e soprattutto se giochi ancora in Danimarca vuol dire che qualche problema ce l'hai calcio molto limitato, ha giocato solo in Europa League insomma se questo è il giocatore che deve prendere la Lazio allora mi tengo quasi quasi mi tengo Wallace perché Wallace non ce lo dimentichiamo, veniva dal Monaco, club francese, ha giocato in Champions League poi conosciamo tutti Wallace e sono il primo a dire che Wallace deve andare via ma se lo dobbiamo sostituire con Vavro allora forse è meglio tenersi Wallace questo non è un giovanissimo, è un giocatore che non è ambito gioca in Danimarca e non fa la differenza, non è che parliamo di un campione che spicca sugli altri giocatori ho chiesto a colleghi danesi e me ne hanno parlato come un giocatore non da Lazio per cui diciamo che se questo è l'obiettivo Lazio, bene, io sono preoccupatissimo non sono convinto che sia lui l'obiettivo da Lazio perché da quanto so io sarà George Mendez a sistemare la difesa piazzando Wallace e poi andando a prendere Bruno Viana che è decisamente un obiettivo differente rispetto a questo giocatore slovacco perché ha esperienza, gioca nel campionato portoghese che non è sicuramente più competitivo ma stiamo vedendo come in Portogallo escono fuori giocatori forti lui è considerato il miglior difensore del Portogallo per cui diciamo che ci sono tanti segnali importanti in più è rambito dal Flamengo e quindi se io devo scegliere io non ho il minimo dubbio mi auguro che Vavro sia un abuttato, un giocatore sparato così a caso perché non si sa dove cogliere ma veramente se Valazio dovesse prendere Vavro altro è Champions League viene a fare la riserva, credo, eppure una riserva così non uno di quelli che vedremo impegnato tantissimo per cui questo acquisto non mi piace per niente mi auguro onestamente che sia solo un rumor ma saremo a vedere grazie, alla prossima ciao, grazie per aver guardato il video sino in fondo se ti è piaciuto clicca il bottone like se clicchi il mio logo ti puoi iscrivervi al canale se non sei ancora iscritto qui trovi altri video che ti suggerisco di vedere perché ti piaceranno sicuramente se ti piace la mia maglietta invece trovo il link in descrizione ti lascio anche i miei account social in modo tale che mi potrai seguire su tutti i miei account ok? ciao, alla prossima!